Dunque, siamo qui stamattina con il professor Donald Sassun, che è professore merito di storia europea comparata all'Università di Londra ed è il direttore scientifico della storia in piazza dalla prima edizione di quattro anni fa. Questa mattina, cosa nuova rispetto alle edizioni precedenti, viene replicata l'Alexio Magistralis che il professor ha tenuto ieri in apertura delle giornate della storia in piazza. E riguarda, in parte, quel brano che abbiamo già selezionato e letto in molte classiche sono qui presenti e dal quale abbiamo enucleato una serie di domande, di problemi, da sottoporre poi all'analisi e alla risposta del professor Sassun. La cosa questa mattina funziona in questo modo. Ci sarà una prima parte della relazione dell'Alexio Magistralis, poi quando si arriva alla parte che noi abbiamo già analizzato, daremo spazio alle domande, sinteticamente ovviamente per motivi di tempo. Quindi chiamerò alcuni studenti, qui abbiamo il radio microfono, quindi potrete parlare dalla sala e quindi potremo rivolgere alcune delle domande ricorrenti che sono emerse dall'analisi delle schede che voi avete fatto. Abbiamo poi preparato una scheda per ognuno dove annotare eventuali risposte alla domanda propria o alle domande relative della propria classe o scuola, in modo tale che questo poi possa ritornare all'interno delle classi si possa riprendere un discorso che non può essere interrotto perché è troppo importante. Detto questo do la parola al professor Sassun. Grazie. Mi sentite lì in fondo? Immaginatevi un'equip di antropologi extraterrestri che visita il nostro pianeta, non importa se hanno sei occhi, due nasi, quattro gambe, immaginate una cosa sola, non hanno i sessi, non ci sono maschi, non ci sono femmine. La riproduzione tra questi visitatori extraterrestri avviene in modo assessuale. Insomma, non fanno sesso. È certamente meno divertente, ma forse hanno meno problemi. Sul nostro pianeta la riproduzione senza sesso esiste, ma di solito avviene in organismi monocellulari può verificarsi in funghi, in muffe come il penicillium glaucum utilizzato per la produzione di formaggi tipo il gorgonzola. I nostri antropologi extraterrestri, che sono ovviamente più evoluti e più intelligenti del gorgonzola, si rendono subito conto che i mammiferi, e dunque anche gli esseri umani, si riproducono sessualmente attraverso un processo di fecondazione della femmina che risulta in uno o più figli o figlie dopo un certo periodo di gestazione. 21 giorni per i ratti, 187 per il babbino, 266 per la donna, 616 per l'elefante. La gestazione e il successivo svezzamento del neonato implica una divisione del lavoro tra maschi e femmine. E questa divisione non cambia tanto da un'epoca all'altra, ad eccezione per gli esseri umani. Non esiste tra i gorilla un mondo antico, non esiste una società medievale per le caffè. Certo c'è l'evoluzione, ma l'identità sessuale tra leone e leonessa non cambia molto nel corso dei secoli. Il ruolo del leone consiste nel fecondare la femmina, poi non fa più nulla. Se ne ha voglia, tiene a bade i rivali, altrimenti, beato lui, dorme e mangia. E invece la leonessa più aggressiva del maschio, che fa la caccia e provvede a sfamare i suoi cuccioli. Il pinguino imperatore, che dal punto di vista femminista è il maschio ideale. La femmina depone l'uovo, perché lì è così, poi lo passa al maschio, il maschio se ne prende cura, ce l'ha tra le zampe. La femmina va a pescare, il maschio pazientemente aspetta proteggendo l'uovo. Quando la madre torna, il maschio va finalmente anche lui a pescare e il piccolo viene poi allevato da entrambi i genitori. Anche per gli esseri umani l'aspetto biologico non cambia molto con il passare dei secoli. Tutti gli esseri umani nascono da donne, ma a differenza degli animali, noi esseri umani abbiamo una storia, abbiamo un passato. Il rapporto tra uomini e donne cambia costantemente. È cambiato negli ultimi duemila anni, negli ultimi cento e in modo molto marcato negli ultimi cinquant'anni. I nostri visitatori intergalattici, quelli con i dieci nasi ma non il sesso, sono tuttavia un po' perplessi. Le differenze biologiche tra maschio e femmine non spiegano né tantomeno giustificano l'ineguaglianza tra i sessi e si chiedono per quale motivo nel corso dei secoli, in quasi tutte le società, all'interno di ogni classe, di ogni tribù, di ogni paese, di ogni gruppo, di ogni religione, le donne sono relegate a ruoli e posizioni subordinate. Uno dei due sessi, quello maschile, ottiene il miglior cibo, più soldi, maggior prestigio e più potere. Certo ci sono differenze fisiche tra uomini e donne ma a parte quelle ovvie che fanno parte della procreazione e dell'allattamento queste differenze fisiche non sono di sostanza. In media gli uomini sono fisicamente più forti ma la forza fisica non ha più importanza da molto tempo. I nostri leader non sono più belli o più alti delle donne come... E Kim Jong-un, David Ben Gurion, Mahmoud Ahmerijad, Silvio Berlusconi, Stalin, Putin sono più piccoli di Angela Merkel, la cancelliere tedesco e certamente meno belli di Julia Gillard che è il primo ministro australiano. Non ci sono ragioni biologiche che spiegano le differenze sociali e culturali tra i sessi. Anzi, si potrebbe immaginare uno scenario alternativo nel quale le donne adoperano il loro potere procreativo per esercitare potere sugli uomini. Non vi è dunque una spiegazione razionale per l'egemonia maschile. E malgrado tutta la nostra scienza non abbiamo ancora risolto questo mistero, cosa che troviamo talmente intollerabile che dobbiamo comunque trovare una spiegazione. E allora alcuni dicono che è la volontà di Dio, altri che è una cosa genetica o naturale, che è sempre stato così, eccetera eccetera. Alcuni antropologi spiegano che lo stato particolarmente debole del neonato umano rispetto per esempio al vitellino, al maialino che possono camminare quasi immediatamente dopo la nascita, fa sì che sia necessario per la sopravvivenza della specie umana che il neonato sia curato per un periodo di tempo considerevole e che questo compito sia affidato prevalentemente alle donne dovuto al legame tra madre e bambino sviluppato durante il corso della gravidanza, mentre l'uomo si occupa di altre cose. Ma anche lì non si capisce perché queste altre cose dovrebbero essere più prestigiose e dare maggiore potere o più soldi o tutte e due. È stato suggerito che è anche nell'interesse genetico della donna scegliere un compagno che fornirà cibo e protezione per assicurare la sopravvivenza del bambino. Questo ragionamento è adoperato per spiegare perché le donne scelgono di preferenza uomini ricchi e potenti mentre gli uomini scelgono donne che sono fisicamente più idonee a fare tanti figli e per questo gli uomini lavorano e sono ambiziose mentre le donne si fanno belle. Questo francamente non mi convince. La questione in realtà è culturale, non è biologica. Oggi pochi uomini sceglierebbero la signora Neandertal che è quella alla vostra sinistra, chiaramente meglio attrezzata per fare i figli, della signora Hebben che invece ha la vostra destra. Un'attività acquista a un'importanza diversa si viene eseguita da un uomo o da una donna. Il tipico domestico è una donna, in italiano poi si dice la donna, ma il capo dei domestici è un uomo, è il maggiordomo. Anche occupazioni tradizionalmente femminili diventano prestigiose e ben pagate quando sono eseguiti da uomini. Cucinare si dice è un'occupazione naturale delle donne, da che mondo è mondo, ma quando cucinare diventa un'occupazione che dà reddito, a volte perfino prestigiosa, gli uomini la monopolizzano, così le donne cucinano a casa, gli uomini nei ristoranti e i chef più famosi sono di solito uomini. Fare vestiti è un'occupazione femminile, ma non appena diventa prestigiosa passa sotto il dominio degli uomini, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Balmain, Missoni, Armani, sì ci sono anche donne, Coco Chanel, Minuccia Prada, ma sono le eccezioni. Quando nasce un maschio si fa festa. Nella maggior parte delle religioni ci sono rituali quando un bambino diventa uomo, come la bar mitzvah tra gli ebrei e la navgiote tra i parsi dell'India, feste aperte anche alle ragazze, ma solo in tempi relativamente recenti. In ben poche società si fa festa per celebrare le prime mestruazioni delle ragazze. La maggior parte delle religioni sanziscono la sottomissione delle donne, così San Paolo scriveva nella sua lettera ai Corinzi. Ascoltate ragazze, le donne nelle assemblee tacciano, perché non è loro permesso parlare, stiano invece sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualche cosa interrogano a casa i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea. Gli ordini religiosi e le gerarchie sono stati in genere aperti solo agli uomini o, come nel caso della Chiesa Cattolica, una delle poche religioni che offre una carriera alle donne, quella della sua, hanno un ruolo subordinato. Il rafforzamento della sottomissione femminile è onnipresente, non solo nelle religioni, ma anche in varie forme di associazione, quale i club, i boy scout di una volta, i club di Londra, la politica fino a recentemente. Tra i ceti benestanti le donne si devono comportare in un certo modo, i signori in un altro. E perfino nei fumetti, apparentemente indirizzati a entrambi i sessi, si costruiscono continuamente le differenze. Non ci sono donne in Tintin, ad eccezione di una insopportabile prima donna. In Paperino, Paperina è un personaggio minore. In Superman, Lois Lane non è mai abbastanza intelligente da scoprire la vera identità di Superman. In Pinocchio, la fata dai capelli turchini è marginale, come lo è Wendy in Peter Pan, Jane in Tarzan, poi in Batman e Asterix non ci sono donne. E anche un libro scritto da una femminista, il Harry Potter della J.K. Rowling, mette al primo piano un ragazzo. Per ogni eccezione, come Alice nel Paese della Meraviglia, ci sono centinaia di storie in cui l'eroe è un maschio. E quando non è il caso, come Biancaneve o La Bella addormentata nel bosco, le eroine sono vittime di altre donne, di donne vendicative, e vengono salvate dal Principe Azzurro. Un insieme piuttosto formidabile di usanze e di prescrizione mantengono il sesso maschile a un rango più elevato. Le norme, certo, sono diverse, in epoche diverse, ma hanno una cosa in comune, il rafforzamento e la riproduzione delle identità sessuali. E tali sforzi non sarebbero necessari se queste differenze fossero naturali. La regolamentazione delle attività sessuali è centrale in tutti i codici giuridici del passato. Da quello più antico, il codice di Hammurabi decretava che l'adulterio, ma solo l'adulterio della donna, era punibile con la morte. Diceva anche se una madre ha rapporti sessuali con il figlio, entrambi devono bruciare vivi, mentre un padre che faceva sesso con la figlia era punito solo con l'esilio. E dunque sempre più severi con la donna adultera, tra gli antichi egizi, tra gli antichi ebrei, i greci, i romani, e in Italia il codice penale del 1930 puniva la moglie adultera con la reclusione fino a un anno, ma non il marito adultero. E la Corte Costituzionale dichiarò questa discriminazione illegittima solo nel 1969. Nel Vecchio Testamento le differenze tra i sessi sono una cosa seria. Prendete questo passaggio del Deuteronomio. Se un uomo sposa una donna, poi la diffama dicendo non l'ho trovata vergine, il padre della giovane è in grado di produrre il lenzuolo con i segni della verginità della giovane. Allora il marito, quello che è diffamato, verrà castigato per avere diffamato una vergine e pagherà al padre della vergine 100 shekel. Non so il cambio attuale del shekel e dell'euro, ma insomma paga una cosa. La giovane rimarrà a sua moglie, ma se la giovane non era vergine, allora verrà lapidata a morte. Se un uomo violente è una vergine, dovrà pagare 50 shekel al padre e sposarla. E questa idea del matrimonio riparatore sopravvisse nella nostra cultura fino a tempi molto recenti. La dominazione maschile è stato un elemento costante della storia dell'umanità. Per contrastarla ci voleva un notevole coraggio. Mary Wollstonecraft scriveva nel suo saggio sui diritti delle donne del 1792 che il suo folle desiderio, my wild wish, di vedere abolito le distinzioni sociali tra i sessi non avrebbe mancato di provocare grandi risate, cioè una cosa ridicola, impensabile. Sono trascorsi più di due secoli dal folle desiderio di Mary Wollstonecraft e non si è ancora realizzato. Se dovesse esserlo, l'uguaglianza sociale e culturale tra uomini e donne sarebbe una rivoluzione di straordinaria importanza perché al centro dell'evoluzione dell'umanità sta proprio il rapporto tra uomini e donne. Eppure fino a poco tempo fa la maggior parte della storia che ci veniva insegnata a scuola trattava molto più di guerre e di conflitti che dei rapporti tra i sessi. La ritrosia degli storici fino a qualche decennio fa di scrivere una storia centrata sul sesso può sembrare strana nel momento che siamo talmente ossessionati dal sesso. La maggior parte della fiction contemporanea, i film, i romanzi riguardano sostanzialmente il rapporto tra uomini e donne. Ma non è sempre stato così. Pensate ai grandi classici. Nella Divina Commedia Beatrice appare solo all'ultimo canto, il Paradiso. Il compagno di Dante, Virgilio, è un uomo. Il 95% dei dannati dell'inferno e dei condannati al purgatorio sono uomini. Le donne, si sa, sono tutte sante comunque. Tra le eccezioni troviamo all'inferno la povera Francesca da Rimini che in fondo non era poi una gran peccatrice. Nella Bibbia non ci sono molte donne, né nell'Antico né nel Nuovo Testamento. La storia biblica comincia con un uomo solitario, Adamo, che cerca una donna. Sto semplificando un po'. Dio gliene procura una e poi cominciano i guai. Cacciata dal Paradiso, questo Michelangelo. Quali sono le altre donne della Bibbia? C'è Giuditta che seduce e uccide Oloferne, questo del Caravaggio. Poi c'è Dalila, colei che indebolisce, che seduce il povero Sansone. C'è Bezzabea, donna sposata, che si fa sedurre dal re Davide. C'è la regina di Saba che flirta con Salomone. E più o meno siamo lì. donne e sesso. In alcune religioni ci sono migliori immagini femminili. La Vergine Maria, ma il culto della Vergine Maria è relativamente recente. In Egitto c'è Iside, nella Grecia, nella Roma Antica abbiamo Atena, Minerva. C'è naturalmente Nicchia, la dea lata della Vittoria, e non una marca di scarpe, per carità. Nell'induismo c'è la dea Kali, una specie di proto-feminista che viene sempre raffigurata calpestando il marito Shiva. L'Odissea è colma di relazioni sessuali. È la storia di Ulisse che durante un lungo viaggio di ritorno ammazza gente, fa sesso con donne, le abbandona, e quando finalmente arriva a casa uccide tutti i corteggiatori della moglie, che lo ha atteso con enorme pazienza per vent'anni. L'Iliade inizia con l'ira di Achille, furioso perché gli era stato negato Briseide come bottino di guerra, ma non certo perché ne era innamorato. Poi torna a combattere perché è sconvolto dalla morte dell'amato amico Patroclo. Fino a circa il XII secolo, il legame tra gli uomini è molto più importante di quello tra uomini e donne. Nella Chanson de Roland, un pezzo iniziale dell'epopea in Francia, celebra l'amore di Rolando per il suo amico Oliviero, per il re Carlo Magno, per la sua fede cristiana, non ci sono donne. I cavalieri della tavola rotonda celebrano il legame maschile. Robin Hood è a capo di una banda di allegri fuori legge che rubano ai ricchi per dare ai poveri, secondo la leggenda inglese del 200. La figura femminile di Marian, compagna di Robin, che poi c'è in tutti i film per ovvi motivi, appare molto più tardi, nel XVI secolo, non c'è nella prima versione di questa leggenda. Come ha spiegato uno storico francese, l'amore che conta è l'amore tra gli uomini, non necessariamente l'amore omosessuale, ma un amore tra compagni. L'amore tra uomo e donna è considerato pericoloso ed è infatti vietato per gli eletti di Dio, per i sacerdoti. L'essere assessuale era visto come una virtù. Nel V secolo San Gerolamo, che era un sostenitore del celibato per il clero, quando il principio non era ancora stato adottato dalla Chiesa, diceva che sì, il matrimonio riempie la terra, ma le vergini riempiono il paradiso. Forse San Gerolamo non aveva tutti i torti. Il sesso era davvero pericoloso. E non sto parlando solo delle relazioni omosessuali che erano illegali fino a poco tempo fa e considerate con orrore e disapprovazione in molte società. Sto parlando del sesso eterosessuale. Pensate ai pericoli, soprattutto per le donne. I trasgressori finivano nelle fiamme dell'inferno per sempre. Un'ansia grave in un'epoca in cui tale credenze erano comuni. Poi vi erano i pericoli delle malattie, dei contagi, della sifilide e più recentemente dell'AIDS. Poi c'era il rischio della gravidanza. Fino a poco fa una delle principali cause di morte per le donne. Le donne che avevano rapporti fuori dal matrimonio venivano considerate come sgualdrine, mentre gli uomini erano al massimo simpatici libertini, gaudenti e non conformisti. Eppure, nonostante tutti questi ostacoli, le donne continuavano ad avere rapporti sessuali anche non legittimi. Certo, con meno entusiasmo degli uomini, il che è comprensibile se si pensa che il prezzo che pagavano era molto più alto. Malgrado questo, venivano biasimate per la concupiscenza degli uomini. Questo è un famoso dipinto di Pietro Liberi del 600. L'uomo precipitato dai vizi, dove vedete l'uomo si copre la testa dalla vergogna, anche per autodifesa. Poi c'è una donna voluttuosa che incarna la lussuria. A sinistra una figura che spreme sull'uomo del succo d'uva, mentre al centro un nano prende a calci i genitali della vittima. Quando le donne non sono tentatrici, sono caste e pudiche, soprattutto nell'Ottocento. Nel 1865 un medico inglese, William Acton, scriveva nella quarta edizione del suo famoso Funzioni e disturbi degli organi riproduttivi, che, e lo cito, la maggior parte delle donne non sono turbate da sentimenti sessuali. Poi aggiungeva, ammetto naturalmente l'esistenza della ninfomania, ma questa è una forma di pazzia, come ben sanno coloro che visitano i manicomi. Non ci sono dubbi, il sentimento sessuale della femmine è sempre in stato di lettargo e occorrono molti sforzi per risvegliarlo. Poi aggiungeva che, mentre alcuni medici ritenevano che si poteva curare la ninfomania con la rimozione della clitoride, lui, William Acton, esprimeva la propria convinzione che non vi è alcuna particolare sensazione sessuale nella clitoride. Purtroppo non abbiamo l'opinione della signora Acton in merito. Insomma, ancora nel XIX secolo la gente era molto ignorante di cose sessuali. Veniva ancora diffuso un manuale sul sesso del 1680, cioè scritto 250 anni prima, vietato al pubblico per via delle immagini ritenute immorali. Si tratta del cosiddetto Compleat di Aristotele, certamente non scritto da Aristotele. Ci furono più edizioni di questo libro nel 1700, veniva adoperato come guida da molte ostetriche e nel Compleat di Aristotele, in questo libro, troviamo avvertimenti sulle possibili conseguenze negative del sesso extraconiugale, quale la nascita di un bambino straordinamente peloso. Siete state avvertite. Il libro poi spiegava anche che le donne sono uomini alla rovescia e che per rimuovere la placenta occorre soffiare il fumo nella vagina. Ma ormai siamo nell'era moderna, l'era della centralità del rapporto uomo-donna. Adesso, io non voglio suggerire che i cambiamenti sociali, economici e culturali causano un cambiamento nelle relazioni tra uomo e donne. Voglio suggerire invece qualcosa di molto più forte, e cioè che i cambiamenti nelle relazioni tra uomini e donne sono parte integrante dei grandi cambiamenti politici e culturali, come la nascita del protestantesimo, la rivoluzione francese e lo sviluppo del capitalismo. Abbiamo appunto visto nel testo che vi è stato circolato questi autori che sono un po' i primi, un po' gli illuminati del periodo. Avete visto anche cosa è successo alla povera Olympe de Gouges, quella che ha scritto la dichiarazione dei diritti della donna e che poi è finita sulla ghigliottina. Avete anche saputo e visto di Mary Wollstonecraft, di questa signora qui, e anche il fatto che a un certo momento, nell'Ottocento, la figura femminile viene adoperata per incarnare la nazione, la libertà, liberté guidant les peuples, famosissimo dipinto di Delacqua che si trova al Louvre, e le nazioni cominciano a diventare femminili. Questa è la Germania, in un dipinto del 1848, questa in mezzo è la Polonia, che viene incatenata da ufficiali russi, questa è la Britannia, simbolo della Gran Britannia, una donna anche lei, questa è madre Russia, in un famoso poster dell'Unione Sovietica, questa è, come sapete qui benissimo, l'Italia turrita, e quando finalmente le italiane ottennero il diritto di voto, avete una bellissima e un po' sexy italiana che va a votare. Nello stesso tempo che la donna viene adoperata come simbolo della nazione, avete letto anche nel testo che vi è stato circolato, che anche la Chiesa Cattolica ha le sue eroine, come appunto Bernadette che a Lourdes ha le apparizioni di cui si sa, e nell'Unione Sovietica, mentre il simbolo del comunismo era il lavoratore Stakhanov, c'era però anche una figura femminile di quella della lavoratrice, non fatta in senso sexy, in nessun modo. Sì, ma è giusto, perché uno lavora nei campi tutti i giorni, non è che... Ok, a questo punto possiamo passare alle domande sul testo che ha circolato, e poi continuo... Avete pazienza fino alla conclusione del... Aspettate perché probabilmente non sono in grado di rispondere alle vostre domande, dunque. Allora, diamo spazio adesso alle domande, farò circolare il microfono in sala con una scaletta di domande che abbiamo ennucleato da quelle proposte. intanto mi faccio l'attore di una domanda che viene dal liceo di Marsiglia, da una classe che non ha potuto partecipare perché in questo periodo sono in vacanza, e dice qual è stato il complesso di fenomeni che ha provocato le disuguaglianze fra i generi e per quali ragioni ancora oggi la donna è spesso discriminata in alcuni ambiti, com'è possibile che uno stereotipo possa avere una così lunga durata nonostante le molteplici rivolte. Comincio a non rispondere a questa? Andiamo via via, sì. Sì, e poi... No, ma è questo... C'è qualcuno che ha una domanda? Sì. Ma chiaramente risponde a questa. Ho capito, sì. Sì, allora... Beh, questa francamente è una domanda molto bella ma anche molto complessa che mi chiede di dare una risposta a quello che non so, e cioè quali sono i motivi originari. Dicevo che era un mistero, che non c'è una spiegazione razionale, ma che una volta che un gruppo acquista una posizione di potere, avere potere vuole dire potere anche determinare quello che è il senso comune della gente, quello che è giusto e che non è giusto. E dunque non solo nella questione dei rapporti tra uomo e donna, ma anche nella questione tra i ricchi e i poveri, tra i bianchi e i neri, insomma tutte le varie forme di disuguaglianza che esistono nel nostro mondo, si giovano dal fatto che una volta stabilite è molto difficile metterle in gioco. Perché? Perché chi mette in gioco una cosa che è nella credenza del 99% della popolazione, si mette nella stessa posizione di Mary Wollstonecraft e cioè di provocare al minimo delle grosse risate per avere questo desiderio folle. Ma voglio anche dirvi che quello che è successo negli ultimi 50 anni sarebbe apparso incredibile a gente nel 1900, cioè l'evoluzione. Per esempio alcune conquiste sono talmente ovvie, ma talmente ovvie, che nessuno le mette in discussione. Il voto alle donne. C'è chi magari mette in discussione il voto a tutti, ma non c'è più nessuno che mette in discussione il voto alle donne, cioè che voglia addirittura ritornare al suffragio maschile. Sarebbe una stupidaggine, una follia, verrebbe sì preso in giro. Eppure, se vedete la gente, i personaggi, gli intellettuali, i politici, che all'inizio del XX secolo pensavano che era una cosa assurda e stupida dare il voto alle donne, questi non erano pazzerelli reazionari, erano le persone normali. Quello che è normale in un'epoca diventa non più normale in un'altra epoca, però bisogna che qualcuno si batta e appunto questo fa parte delle lotte politiche della nostra epoca. Ci sono altre domande? L'emancipazione femminile e lo sviluppo di un più equo rapporto tra i generi non ha comunque risolto tutti i problemi, come ad esempio i fattori quali l'emarginazione della donna in alcune religioni, i pregiudizi diffusi, la diffusione della prostituzione. Considerando il rapporto tra i generi come frutto di una dimensione principalmente culturale, è possibile pensare che oggi possa essere prodotta una nuova forte spinta capace di accelerare ulteriormente il progresso nel campo della relazione tra i generi. Darò una risposta brevissima perché credo di avere in parte risposto qualche minuto fa. Ma però voglio fare una piccola premessa. è anche una confessione. Io faccio lo storico. Lo storico è uno che cerca di capire che cosa è successo. Non vuol dire che sa cosa succederà. Anzi, di solito non abbiamo la più palida idea di quello che succederà. E mi pare che non lo hanno neanche i miei colleghi nelle scienze sociali. E dunque quello che succederà non lo posso dire eccetto cose banali tipo la società sono sempre cambiate dunque probabilmente cambieranno. ma stiamo anche attenti nel pensare che le cose vadano sempre per il meglio. E mi propongo anche di spiegare perché in alcuni casi ci sono delle degenerazioni. Passiamo a un'altra. Ritiene che la Chiesa Cattolica in Italia possa aver influito sul fenomeno esaminato? Ecco, il ruolo della Chiesa Cattolica non solo in Italia ma nel mondo è particolarmente interessante perché come quasi tutte le grandi ideologie è necessariamente in preda a un certo numero di contraddizioni. Da un lato dal punto di vista tradizionale è chiaro che la Chiesa Cattolica ha un'immagine o aveva un'immagine ben definita dei ruoli rispettivi dell'uomo e della donna. Ma nel corso dell'Ottocento c'erano dei mutamenti e tra i grandi mutamenti che c'erano soprattutto in Europa era un esodo costante delle persone ma soprattutto degli uomini dalle campagne alle città per andare a lavorare c'era lo sviluppo del capitalismo. Ora immaginatevi un'organizzazione immaginatevi un'organizzazione come la Chiesa Cattolica che ha in ogni villaggio una Chiesa un suo rappresentante il prete e una sua audience e questa audience se ne va e va nelle città e chi c'è nelle città ci sono le fabbriche c'è il peccato ci sono i comunisti ci sono insomma c'è tutta una serie di cose ora uno può cercare di bloccare questo fenomeno oppure può anche cercare di intervenire e quello che a un dato momento la Chiesa comincia a fare è quello appunto di intervenire con una dottrina sociale formando i sindacati cercando di rimediare in qualche modo e di intervenire anche in concorrenza con gli anarchici prima poi i socialisti i comunisti e così via e dunque abbiamo una tensione sempre molto forte nella Chiesa Cattolica come naturalmente c'è nel mondo del lavoro come c'è nella sinistra tra i socialisti e così via perché anche il movimento di sinistra e i socialisti avevano la loro contraddizione perché era un movimento essenzialmente maschile quando la maggioranza dei lavoratori nelle fabbriche erano uomini e dunque abbiamo questa cosa che quando si formano i partiti politici il partito religioso il partito che è più vicino alla Chiesa ha naturalmente più voti e più forza tra le donne mentre i partiti della sinistra hanno più forza schematizzo naturalmente dipende dalle realtà ma più o meno era quello e dunque entrambi devono fare qualcosa la Chiesa Cattolica per avvicinarsi ai lavoratori e i socialisti la sinistra per avvicinarsi alle donne bisogna sapere discutere questi fenomeni non solo dal punto di vista delle loro ideologie di che cosa pensano ma soprattutto dal punto di vista della loro storia della loro pratica come loro intervengono man mano nel corso degli anni ok scusate un pochino più di silenzio però per favore perché l'atteggiamento culturale giuridico nei confronti della donna nel Medio Oriente non ha influenzato l'atteggiamento dell'Occidente di fronte a continui scambi commerciali e culturali e come mai l'atteggiamento dell'Islam che ha accettato per primo il divorzio è mutato nei confronti della donna attualmente è sul mondo musulmano la domanda sì cioè per come mai nel Medioevo il mondo musulmane era più avanzato rispetto a quello sì ok sì noi commettiamo un errore se pensiamo al mondo musulmano come una cosa unita e costante così come lo faremo se pensiamo alla Chiesa Cattolica come una cosa che non cambia mai da un secolo all'altro nel mondo musulmano c'era all'epoca del Medioevo non vi è dubbio che a quell'epoca le donne pur essendo sottomesse anche nel mondo musulmano avevano più diritti nel mondo musulmano che in quello cristiano e nel mondo cosiddetto musulmano di oggi ci sono delle diversità abbastanza forti abbiamo paesi nei quali la donna è costretta a vestirsi in un certo modo è costretta in Arabia Saudita a portare il velo a coprirsi il volto completamente in altri paesi come nell'Iran è costretta a coprirsi il capo ma in alcuni paesi musulmani è vietato coprirsi il capo per esempio fino a poco tempo fa in Turchia i governi laici che c'erano appunto per debellare l'islamismo obbligavano le donne a non portare il velo lo potevano portare a casa ma non per la strada e certamente non per gli uffici questo fino a pochi anni fa in Turchia fino a poco tempo fa in Algeria e perché? perché questo mondo musulmano ha da da un bel po' di anni ma certo dai 100 dagli ultimi 150 anni è la grande battaglia che si gioca all'interno di questo di questo mondo e tra le forze laiche cosiddette modernizzanti che a volte sono anche dittatoriali e quelle che invece sono che hanno un appoggio popolare più ampio ma sono più religiose e dunque quando si parla del mondo musulmano bisogna anche sapere cogliere queste distinzioni perché purtroppo nella realtà non ci sono mai i buoni e i cattivi sarebbe molto più semplice per tutti noi se tutto fosse come in un film western i cattivi sono lì i buoni sono lì noi siamo i buoni con John Wayne arriviamo a cavallo e si rimedia tutto no non c'è quello che uno studioso americano chiamava il clash of civilization lo scontro delle civiltà ci sono scontri all'interno delle cosiddette civiltà e quello che vediamo in atto in questo momento all'interno del mondo musulmano è uno scontro politico che in un certo senso non è poi tanto diverso dello scontro che c'è stato in Europa e continua ad esserci tra forze laiche e forze religiose esiste una relazione tra la figura della donna lavoratrice che sia durante la seconda rivoluzione industriale e l'immagine della donna patriottica presente durante la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti e nell'Inghilterra ecco questa è una domanda su il rapporto tra la seconda guerra mondiale e le donne a me è un soggetto che mi piace molto perché in linea in linea di massima la gente pensa che l'uomo parlo del vero uomo il duro è quello che va in guerra è il John Wayne quello che va il soldato le donne invece sono buone stanno a casa ci sono i bambini non vogliono la guerra ma uno dei grandi paradossi è che in realtà cosa succede nelle guerre muoiono più uomini che donne nella prima guerra mondiale di gran lunga nella seconda c'erano molti morti civili nella prima guerra mondiale muoiono molto di più gli uomini che le donne e mentre gli uomini sono a combattere le donne prendono il loro posto di lavoro e dunque cominciano a emanciparsi e di fatti le due grandi movimenti per dare il voto alle donne cominciano dopo la prima guerra mondiale dove il voto è conquistato in quasi tutti i paesi europei meno che Italia Francia e il Belgio e poi dopo la seconda guerra mondiale il voto viene acquisito anche in Italia Belgio e in Francia e dunque il paradosso sarebbe che in realtà ragazze le guerre vi aiutano ammazzano gli uomini voi li rubate il posto di lavoro e poi il giorno dopo avete più potere a questo punto aggiungo sto scherzando non andate in giro a dire questo professore è venuto a dire che altre tre o quattro guerre c'è un'emancipazione femminile no ci sono spero dei modi meno drammatici per portare avanti l'uguaglianza tra i sessi se è vero che viviamo in una società che si definisce civilizzata ed evoluta perché il pregiudizio primitivo sulla superiorità dell'uomo in forza fisica è ancora presente e spesso giustifica l'inferiorità della donna e perché per arrivare alla parità dei sessi è risultato e risulta tuttora necessario giustificare i delay diritti come nella concezione limitativa di Fenelon è questa questa è la quella quella su Fenelon no no è un'altra classe aspetta aspetta scusa più o meno non ce la può dare ecco bravo io non lo so dunque la domanda era come mai il pregiudizio primitivo sulla superiorità dell'uomo è ancora presente e spesso giustifica l'inferiorità della donna e perché arrivare alla parità dei sessi risulta necessario giustificare non riesco a leggere probabilmente non so la risposta cioè nel senso che perché per arrivare alla parità perché per arrivare alla parità è risultato tuttora necessario giustificare i diritti di lei della donna come nella concezione limitativa di lei dunque abbiamo un problema generale abbiamo due personaggi l'uomo e la donna che biologicamente non sono simili se avessero gli stessi diritti l'uomo e la donna sarebbero due soggetti che hanno delle differenze che però vengono trattate in modo uguale e il problema principale è che ma se non sono uguali per trattarli in modo uguali bisogna stabilire delle norme che non sono le stesse vi faccio un esempio assolutamente banale se sono le donne che sono incinta e gli uomini non sono incinta dire a tutti bisogna lavorare dalle otto del mattino alle cinque del pomeriggio e siete tutti dovete farlo perché siamo tutti uguali nella pratica nella sostanza c'è una disuguaglianza perché prima o poi uno di questi due che è sempre la donna che se gli uomini fossero incinta le cose sarebbero diverse ma finché è solo la donna che è incinta avere gli stessi diritti e gli stessi obblighi è una cosa che non può funzionare perché appunto non hanno la possibilità se vogliamo che la razza umana continui naturalmente non hanno la possibilità di avere lo stesso tipo lo stesso ritmo di lavoro per sempre e dunque molte delle complicazioni delle difficoltà reali non solo di quelle di cattiva fede è appunto nel fatto di come stabilire delle regole che non siano uguali ma che facciano in modo che lo scopo eventuale è che qualcuno non viene discriminato per una funzione sulla quale siamo tutti d'accordo è assolutamente necessario fino a un mondo dove facciamo tutto in provetta ma comunque non ci siamo ancora un mondo in cui sono le donne che sono incinta all'attano e così via sulla differenza della forza fisica credo che in un momento attuale dove pochi sono i lavori che richiedono una forza fisica che solo gli uomini possono dare credo che ormai questo non ha più alcun senso di fatti molti dei lavori pesanti lo fanno le donne comunque chi pulisce gli ospedali sono più che altro le donne chi fa i lavori un po' più pesanti le infermiere chi invece fa il lavoro che è quasi come quello di fare la maglia sono i chirurgi e questi sono in prevalenza uomini vorrei sapere la sua opinione riguarda il ruolo di alcuni movimenti di protesta attuali come ad esempio le femen ritiene che diano un contributo positivo alla causa dell'emancipazione femminile o alimentino ulteriormente atteggiamenti maschili di controllo e repressione nei confronti del genere femminile io vorrei rimanere sul terreno che mi più congeniale che è quello dello storico il movimento femmin cioè il movimento politico che vuole l'uguaglianza comunque contro credo che soprattutto in Russia e in Ucraina di donne che si spogliano questo mi sembra che si tratta di una di una tattica e cioè che in un mondo come il nostro per fare partire un messaggio occorre attirare l'attenzione dei media e dunque queste attiviste si spogliono attirano naturalmente i media perché una donna nuda attira sempre i media come abbiamo anche visto dalle cose e francamente non lo so come storico fino a quanto questo funziona nel senso che vorrebbero queste attiviste però è veramente una funzione storica è una funzione di di attrarre i media come lo facevano già le suffragette non si spogliavano per carità le suffragette però facevano delle azioni di tipo eclatante appunto per attirare l'attenzione della stampa dunque come tattica è vecchia la novità è che si spogliano l'ultima domanda veloce e poi chiudiamo dato che ora come ora in Italia le donne hanno teoricamente gli stessi diritti degli uomini volevamo chiederle come a suo parere nell'evoluzione della società il genere femminile abbia colmato il gap fisico che per natura lo sottopone a quello maschile io non credo che il gap fisico abbia avuto una grande importanza nel corso degli ultimi duemila anni è vero che in media l'uomo è più forte della donna ma se la forza fosse la cosa determinante avremmo una graduatoria tra i forti e i deboli in cui ci sarebbero delle donne tra i forti e degli uomini tra i deboli dunque la forza fisica l'ho provato illustrando in modo ironico i volti e l'altezza fisica dei grandi leader incluso Berlusconi del nostro tempo e francamente se sono lì non è certo come dire per l'aspetto fisico o per la forza fisica bene io vorrei non abbiamo molto tempo dovrei concludere rapidamente ma volevo mi premeva mi premeva passare al nostro al nostro secolo con l'idea che verso la fine del diciannovesimo secolo si manifesta una nuova figura femminile che è quella della nuova donna in Italia la nouvelle femme in france the new woman in Gran Bretagna e negli Stati Uniti un'immagine della femminilità che non è più quella dell'ottocento tradizionale che già comincia a spesurarsi a man mano che il movimento anche con l'aiuto del movimento delle suffragette e questa nuova donna è una donna che gli altri che molti uomini ritengono troppo maschile o troppo sessualizzata anche la figura della donna scrittrice veniva sono molte le donne scrittrici nell'ottocento venivano prese in giro questa è una caricatura di Dommier un famosissimo disegnatore francese in cui si vede la scrittrice scrivendo il suo romanzo e non si bada non ha cura del bambino che sta negando nella vasca e questa nuova donna causa un panico sociale anche su questioni che sembrano banali per esempio il crescente utilizzo della bicicletta avrebbe portato le donne dicevano e giuro è vero a trascurare i figli e i mariti la gente si chiedeva ma come come fanno andare in bicicletta a indossare abiti femminili questa è una foto del 1890 oppure peggio mio dio avrebbero adottato abiti più maschili come solo dieci anni dopo questa è una foto del 1900 e alcuni medici consigliavano alle donne di non andare in bicicletta durante le mestruazioni e comunque non senza un precedente esame ginecologico cioè ogni mese passate dal medico che sia tutto a posto e poi andate in bicicletta ci si allarmava anche della possibilità che l'andare in bicicletta fosse una forma di masturbazione in quanto il movimento delle cosce causava attrito in certe zone secondo alcuni medici che avrebbero potuto portare le donne poi a scoprire certi vizi questo non nel medioevo le biciclette non c'erano questo è cent'anni fa c'era di peggio c'era di peggio c'era di peggio le donne cominciavano a fumare nel 1880 in poi sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti molte donne avevano trovato nella sigaretta un modo di manifestare la propria emancipazione e uguaglianza con gli uomini e questo fa parte di una serie di pubblicità già nel 1919 inevitabilmente la crescente emancipazione femminile determina una crisi della mascolinità perché l'ego maschile dobbiamo ammetterlo è strutturalmente fragile in quanto la virilità porta un peso simbolico forse maggiore della femminilità la mascolinità si identifica con il potere soprattutto il potere sulle donne e pertanto gli uomini sono spesso vulnerabili di non essere all'altezza delle aspettative e questo veniva capito da illuminati come David Hume anche nel settecento e abbiamo dopo la prima guerra mondiale una crisi della mascolinità e una soprattutto in Gran Bretagna e in Francia anche per via delle elevate perdite maschili sul fronte di guerra della prima guerra mondiale e dall'altro canto abbiamo anche invece nell'Italia fascista e nella Germania nazista un culto della mascolinità dove si dà colpa alla femminilizzazione del maschio per la perdita della Germania nella prima guerra mondiale e la vittoria non delle migliori come si diceva la vittoria mutilata dell'Italia nella prima guerra mondiale poi le preoccupazioni maschili aumentano negli ultimi 40-50 anni quando vi fu la scoperta dell'orgasmo femminile le riviste femminili sollecitano le donne a migliorare costantemente il proprio aspetto fisico bisogna essere magre ma con curve con un bel busto e poi anche adesso avere un lavoro interessante e poi essere buone madri insomma tutta una serie di cose le riviste per uomini non sono così introspettive non danno consigli così ma la rete il web è piena di preoccupazioni maschili se si googla dimensione del pene in inglese penis size si ottengono 123 milioni di siti provate al secondo posto la preoccupante domanda does size matter conta la dimensione queste sono le preoccupazioni degli uomini e allora si cerca perché e la dunque la mascolinità e la virilità sono oggi ben più complicate di ieri e la nostra è un'epoca complicatissima in tutti i campi ma la modernità ha anche un lato oscuro la gente pensa che più un paese è economicamente sviluppato e apparentemente progredito più ci sono delle conquiste questo non è sempre vero per esempio la legge nazionale che ha l'obbligo di retribuire la donna lavoratrice nel periodo della maternità c'è in tutta Europa c'è in Italia non c'è in quattro paesi al mondo solo non c'è nell'Iberia nella Papua New Guinea nello Swaziland e negli Stati Uniti d'America e dunque non vi è necessariamente sempre un nesso stretto e meccanistico tra il progresso chiaramente gli Stati Uniti sono più avanti della Papua New Guinea e l'emancipazione femminile o le possibilità in più prendiamo un'altra cosa molto seria il traffico del sesso sì la prostituzione esiste da si dice la più antica delle professioni ma il traffico del sesso ha seguito la tendenza del capitalismo e ha acquisito caratteristiche globali e ora questo traffico internazionale è una delle piaghe più agghiaccianti del nostro tempo pensate giovani donne più o meno costrette ad emigrare e poi per paura costrette a prostituirsi trattate come merce sottoposte a minacce costanti per poter poi essere violentate più volte al giorno perché è ben di questo che si tratta quando si fa sesso non per piacere ma per paura non è questo una forma di tortura non è questo un problema di gran lunga peggiore del terrorismo eppure afflegge tutte le nostre società cosiddette civili per non parlare della violenza che molte troppe donne subiscono nella nostra talmente moderna e avanzata Europa ogni giorno sette donne vengono uccise dai loro cosiddetti compagni solo in Italia nel 2011 sono state uccise 127 donne una ogni tre giorni e nel rapporto speciale sull'Italia della commissione per i diritti umani delle nazioni unite hanno osservato che gli stereotipi di genere erano ancora profondamente radicati in Italia più che in paesi all'Italia paragonabili cioè gli altri paesi europei e guardate questo è il gender gap è il gap tra uomo e donna prendendo tutta una serie di partecipazione al mercato di lavoro partecipazione a questo che l'altro primo vabbè l'Islanda Finlanda i soliti paesi del nord Europa all'ottavo posto Filippine è un paese del terzo mondo il Nicaragua poi c'è la Svizzera il Lesotho è al quattordicesimo posto battendo l'Inghilterra al diciottesimo gli Stati Uniti sono al ventiduesimo posto so che guardate con preoccupazione il fatto che l'Italia è all'ottantesimo posto l'ottantesimo battendo il Giappone che pure è un paese altri punti di vista è evoluto ma non molto lontano dal Pakistan e se poi invece prendiamo un altro dato che è quello della percentuale delle donne in Parlamento il primo al mondo è il Rwanda che come si sa è l'unico paese al mondo che ha più del 50% di presenze femminili nel Parlamento all'undicesimo posto c'è la Norvegia l'Afghanistan sulle quale non vi è dubbio le donne non stanno bene per dirlo proprio insomma in modo più generoso possibile però dal punto di vista della rappresentanza parlamentare sono al trentasesimo posto la Francia al trentasette il Regno Unito non sta molto bene come il paese delle suffragette al cinquantasettesimo posto l'Italia è sessantatresima ma gli Stati Uniti peggio ancora gli Stati Uniti hanno avuto tre segretari di Stato donne Marlene Albright Condoleezza Rice Hillary Clinton ma in rappresentanza al congresso hanno solo il 17 18% e infine fanellino di coda il Botswana che poi sta vicino al Rwanda dunque è successo qualcosa e il Giappone e dunque la famosa rivoluzione più lunga di cui si parlava prima come vedete ha ancora molto 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 da fare io vi ringrazio dell'attenzione ringraziamo il professor Sassun per la relazione approfondita e divertente anche in molti passaggi e volevo ricordare che le classi che devono assistere alla conferenza di Aime rimangono seduti senza muoversi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti